O passa entro l'anno oppure il danno per le casse della regione e indirettamente per i cittadini sarà enorme. Senza il via libera alla riforma della sanità vereta, questi sono i soldi che spenderemo per pagare solo i direttori generali. Considerato che ogni direttore generale costa circa 150.000 euro, potete bene immaginare quanto andrà a pesare sul bilancio della sanità nominare 21 direttori generali. Se la situazione a Palazzo Ferrofini non si sblocca, si torna indietro. Si dovrà nominare nuovamente 21 direttori generali delle attuali aziende sanitarie, uno spreco da 3.150.000 euro all'anno. A questi aggiungiamo altri 6 milioni per le figure di direttore sanitario, amministrativo e direttore del sociale che i direttori generali saranno chiamati a indicare. In tutto sono 63 figure dirigenziali. Bisogna mettere in conto poi anche il costo futuro di tutta la macchina amministrativa e alla faccia della spending review, i denari già spesi per stampare e distribuire gli emendamenti presentati dai consiglieri regionali. Insomma, Conti alla mano è arrivato il momento di accantonare gli interessi politici e personali e pensare al bene della collettività. Spesso sento dalle vostre telecamere, dai vostri microfoni molti colleghi che si dicono favorevoli a luce della pedemontana del Veneto orientale, salvo poi venire in consiglio regionale e attaccare fortemente questi territori. Persone che usano ovviamente due misure completamente diverse e a queste persone presto bisognerà presentargli il conto.